Serena Enardu e Pago di nuovo in crisi. Le parole amare di lei sui social. La coppia formata da Serena Enardu e Pago sembra essere di nuovo in crisi, dopo giorni di voci che circolavano sul web. La ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e ha condiviso sui social parole cariche di delusione e amarezza. Dopo aver riappacificato la loro relazione al grande fratello VIP nel 2019, i due sembravano inseparabili. Tuttavia nel 2020 è scoppiata un'altra rottura tra di loro. Nonostante ciò, nell'estate del 2022 hanno deciso di tornare insieme. Ma ora sembrano esserci nuovamente dei problemi. Le indiscrezioni su una nuova crisi tra Serena Enardu e Pago sembrano essere confermate, poiché da circa un mese i due non appaiono più insieme sui social. Questo ha alimentato i sospetti dei fan e dei follower che hanno iniziato a indagare sulla situazione. Dopo molte domande rivolte a entrambi, Enardu ha deciso di fare chiarezza attraverso le sue storie su Instagram. Ha dichiarato di essere in una fase di ripresa e cura, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione con Pago. La coppia ha vissuto alti e bassi, partecipando a programmi come Temptation Island VIP e Grande Fratello VIP. Nel 2019, durante Temptation Island VIP, la relazione è stata messa alla prova e i due sono usciti separati. Successivamente sono riusciti a riconciliarsi al Grande Fratello VIP, ma nel 2020 è scoppiata un'altra crisi che li ha portati a separarsi nuovamente. Nonostante i tentativi di riappacificarsi, sembra che Serena Enardu e Pago stiano affrontando un'altra crisi nella loro tormentata relazione. Resta da vedere se riusciranno a superare anche questa difficoltà e a...